1 Premessa Una delle poche cose, anzi forse la sola che io sapessi di certo era questa, che mi chiamavo Mattia Pascal. E me ne approfittavo. Ogni qual volta qualcuno dei miei amici o conoscenti dimostrava di aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi stringevo nelle spalle, so chiudevo gli occhi e gli rispondevo. Io mi chiamo Mattia Pascal. Grazie caro, questo lo so. E ti par poco? Non pareva molto perdere le tanni anche a me, ma ignoravo allora cosa volesse dire il non saperne pur questo, il non poter più rispondere, cioè come prima l'occorrenza. Io mi chiamo Mattia Pascal. Qualcuno vorrà bene compiangermi, costa così poco, immaginando l'atroccio cordoglio di un disgraziato al quale avvenga di scoprire tutta ad un tratto che... sì, niente insomma, né padre né madre, né come fu o come non fu. E vorrà pur bene indignarsi, costa anche meno della corruzione, dei costumi e dei vizi, della tristezza, dei tempi, che di tanto male possono essere cagione a un povero innocente. Buon salve e benvenuti. In questa serie voglio portarvi la lettura integrale del libro Il fu Mattia Pascal. Nei prossimi video porterò la lettura capitolo dopo capitolo di questo libro. Vi auguro una buona visione per i prossimi episodi che usciranno. Alla prossima! Grazie!